Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video, io sono Akira e oggi parliamo del mio formato preferito in assoluto che sta venendo scalzato dall'historic, cioè del modern, già dopo aver fatto la top 10 e la top 5 che potete andare a vedere in risposta scombo sul canale di Zogarbe, delle migliori carte di Strixhaven onestamente c'era bisogno ovviamente di fare una top 10 per quanto riguarda un singolo formato così non si rischia di sbagliare e si possono esporre delle opinioni in maniera molto più circostanziata quindi oggi benvenuti in questo video che vi parla delle migliori 10 carte di Strixhaven per quanto riguarda il modern subito un bel like sulla fiducia, ovviamente questo è inutile dirvi un bel commentino pure se capita di quelli mattinieri no è l'una quindi insomma non è tanto mattinieri, però dicevamo come premessa qual è il punto? il punto è che Strixhaven non ha delle bombe, cioè non ha quella carta che la vedi e dici bomba, questa ribalta il formato con un calzino comunque vedrà molto gioco, no non ce l'ha ha un sacco di carte interessanti, un sacco di utility che vanno in una o in un'altra direzione in uno o in un altro mazzo e oggi ce li vediamo un po' tutte nonostante ci tengo a sottolineare che adesso come adesso il formato modern è molto 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 ben bilanciato molto molto ben bilanciato, si sta bene in modern, si sta molto bene in questo momento se voi andate a vedere qualunque ultima challenge su MTGO, chiaramente sono gli unici tornei di cui abbiamo notizie visto e considerato che non si fanno tornei fisici, ci sono dieci mazzi diversi in top 10, otto mazzi diversi in top 8 16 in top 16, tutto è molto sano come formato, chiaramente insomma il formato è anche diventato abbastanza interattivo non ci sono dei mazzi poi troppo veloci tranne OR protezza o combo troppo degenerati i ban hanno funzionato e secondo me siamo effettivamente a un buon punto ci sono chiaramente delle strategie che stanno prendendo piede ma non credo che Strixhaven rivoluzionerà questo scenario no, non credo per niente, chiaramente stiamo parlando delle carte regolari di Strixhaven e quindi non ci sarà nulla dell'archivio mistico perché sapete che c'è una carta che comunque probabilmente sarà in cosa in modern horizon 2 ma che adesso non potete giocare in modern, dall'archivio mistico non potete mettere niente nei formati in cui quelle carte non sono già legali quindi mi raccomando attenzione a questo sto parlando della sorcery a 1 verde ovviamente abundant harvest se non sbaglio si chiama la carta detto questo appunto non significa che Strixhaven comunque non possa avere delle carte che effettivamente molti giocatori di modern saranno contenti di ricevere nei propri mazzi molto 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 contenti quindi mi sono voluto organizzare con questa top 10 è la prima top 10 che faccio da solo sul mio canale mi sono sempre stato accompagnato dal fantastico Zio Carp comunque in descrizione trovate l'episodio di risposta scombo per vedere comunque tutto Strixhaven però di modern giustamente mi sono occupato praticamente sin dall'inizio del canale ed è il mio formato appunto preferito e quindi andiamo ad analizzare insieme quali sono le 10 carte migliori di Strixhaven che io penso che entreranno a far parte del modern da una porta di servizio da una porta come si dice non proprio dalla porta principale ecco questo è la premessa tra l'altro vi faccio insomma dono di una nuova e potentissima modalità grafica nel quale finalmente potrete vedere le card review fatta bene anche sul mio canale sono contento di averla creata e quindi andiamo subito con la Honorable Mention siete pronti? vai! allora l'Honorable Mention è Temped of by the Oric per ogni avversario potete guadagnare potete rubare praticamente insomma controllare una creatura o planeswalker che costa 3 o meno allora ragazzi non credo che questa carta vedrà gioco in modern non credo però mi piaceva molto perché un modern praticamente tutto a costo 3 o meno cioè a parte Jace Demand Sculptor cioè praticamente questo è un controlla creatura o planeswalker che controlla un creatura o planeswalker praticamente di tutto tranne Tron eccetera quindi è carina come carta però sicuramente ecco l'ho voluta mettere giusto per farvi un po' ridere di un formato che appunto sopra il mana cost 3 praticamente non ha nulla però con questa si controlla verenet six si controlla teferino si controlla liliana si controlla tarmo si controlla tutto praticamente tutto manca l'appello giusto stormwing entity poche effettivamente carte del formato ripeto non vedrà gioco e sorcery 3 blu non è che posso fare un cryptic command che non fa niente carina in commander però la volevo citare tanto per ok partiamo con la carta numero 10 strict proctor allora ho già detto che questa carta a me piace molto è una 1-3 volante che dice quando un permanente entra nel campo di battaglia se causa un qualunque permanente terra artefatto creatura qualunque tipo permanente se entra nel capo di battaglia e fa trigger a un abilità il controllore di quella abilità deve pagare due mana aggiuntivi altrimenti quella abilità non triggera questa carta può essere usata a nostro favore oa svantaggio dell'avversario quindi la prima cosa che ci viene in mente è la seconda giocarla in un mazzo tasse a tasse manca un drop a 2 no perché c'è già battaglia c'è già giudice leonida c'è già stoneforge mystic tra l'altro questa non è che è molto contenta di giocare con scusate mistica forgia piede non è tanto contenta di giocare con strict proctor quindi difficile capire se effettivamente quel tipo di mazzo vuole questo tipo di abilità però questo strict proctor spegne totalmente amulet titan totalmente che prende non far rimbalzare più le terre in mano perché non può più non l'amuleto non lo stappa più quindi annulla l'amuleto le bounce land il titano e valakut tantissime carte quindi probabilmente dei mazzi tassi poter tasse potremmo vedere due copie barra tre copie a seconda del meta di side di questa carta ora valutiamo invece i casi in cui noi vogliamo annullare un nostro trigger fondamentalmente mi viene in mente solo lotus field che è un trigger negativo che però appunto quando entra la terra dobbiamo pagare due noi vogliamo quindi non sacrificheremo le terre avremo una lotus field che fa tre mana sin da subito senza utilizzare blood sun o altre cose ma una 1 3 volante è abbastanza per costruire un mazzo intorno a questa interazione mi sembra di no c'è una versione di vr control che voleva giocare questa interazione se ci sarà una creatura anche perché la cosa è rischiata perché è una 1 3 muore da bolt quindi io faccio questa cosa poi faccio lotus field mi ammazzano street proctor in risposta probabilmente non odio non so qual è il ruling perché quella è già no è in questo caso no comunque va bene perché l'abilità verrà counterata lo stesso perché andrà in pila però se c'è invece una creatura che noi vogliamo fare e poi canterà l'abilità con strip proctor quando la per creatura in pila ci possono fare volta su questa chierico spirito insomma so and so come diritto l'inghese così così però andiamo avanti posizione numero 9 test of talents allora questa carta mi piace molto è un praticamente un counter che fa surgical e è interessante comunque poter counterare è un counter che fa solo istante sorcery e fa surdiva però è interessante poter counterare bring to light è interessante nel formato che gioca niv midget scapeshift anche se si vede molto di meno ad nauseam anche se praticamente è sparito a qualche target buono rimane una carta molto interessante secondo me per la side e che dita storm chiaramente è uno dei suoi target migliori gift and given insomma devo dire che per come messo adesso il formato questa carta poche potenzialità e infatti l'ho messa al numero 9 per come il formato in verità si andrà ad evolvere questa carta è una carta da tenere molto in considerazione perché fa un effetto unico e mano a mano che verranno stampate istante sorse che noi vogliamo giocare all'interno di modern questa carta prenderà sempre più piede è comunque una carta di side non credo che nessuno giocherà mai in deck mai in deck questa test of talents first day of class passiamo a te cara first day of class ma dici caspita ottavo posto per un instant che dice quando una creatura entra al campo di battaglia in questo turno gli metti un segnalino e prende ast fino alla fine del turno non è fortissima a dici ma la metti qui perché c'ha learn quindi ti prendi una cosa dalla side la metto qui perché learn può prendere una cosa dalla side ma in verità può fare pesco primo scarto poi pesco quindi all'interno del mazzo dredge che sembra il mazzo che da questa espansione guadagnerà di più quando non vedere perché first day of class fa faccio questo istantaneo per esempio al mio turno pesco scusate scarto un dragante pesco il dragante quindi drago 5 nel dragare 5 faccio entrare delle creature che non possono essere i prize perché i prize da rientrano a fine turno ma possono essere narcomeba possono essere se ho altro mana può essere un oxo va con assa rapido che non è proprio l'ultimo degli scemi possono essere dei blog gast ci sono delle carte che posso entrare prendono rapidità prendo un segnalino più uno più uno permanente tutto utilizzando un mezzo enabler cioè è vero il la creatura con l'avventura si fa uno e fa lo stesso effetto scarto pesco questa si fa due e non vedrà gioco probabilmente vedrà zero gioco zero come giocate akira si sbaglia l'ottavo posto decimo non ottavo è sbagliato in questa classifica può essere può essere ma voi stateci attenti perché chissà che succede winter bloom command allora avevo già detto che secondo me questo winter bloom command è il command più forte per quanto riguarda i formati un po più vecchi è un command verde nero si scelgono due modalità si fa solo due mana un giovedore milla tre carte poi puoi prendere una carta terra dal graveyard dalla mano quindi fa una specie di vantaggio carte vantaggio si insomma prendete una carta dal cimitero poi potete distruggere una non creatura non terra con converted manacoste due o less vi ricordo che nel formato c'è venen six che viene preso da questo spell ma viene presa anche tanta altra roba qualche artefatto qualche carta di side qualche bell'incantesimo e così via ma potete uccidere anche un bop perché date meno tre meno uno fino alla fine del turno non capisco perché questa carta sia sorcery quando a questa abilità qui onestamente e poi fa un bacetto di vita due vite tolte oppo due guadagnate a noi è abbastanza per il modern forse anche qui no qualche copietta di main magari però io la posso vedere in un mazzo che quattro modalità simili è una carta abbastanza versatile cioè il fatto è vero non si vede già collective brutali si è più forte si vede di meno ma con le te brutali delle modalità dovete pagare un costo scartare delle carte che poi ogni tanto è buono ok ogni tanto non è buona questa cosa qui secondo me guiderblu command potrebbe effettivamente veder gioco in qualche mazzo verde nero midrange non è una carta stupefacente però secondo me insomma andava assolutamente citata ok passiamo a rip apart allora rip apart è un upgrade sostanziale ad abraid l'abbiamo già detto in moderna braid vede abbastanza gioco ma vede abbastanza gioco in un mazzo che un mazzo fondamentalmente ponza che non gioca il bianco e non è intenziale a giocare il bianco questa rip apart è ripeto un sostanziale upgrade perché fa male anche placewalker e distrugge anche incantesimo probabilmente quindi non non vedo che troverà gioco appunto in un mazzo che vuole giocare blood moon come ponza è una carta con il bianco quindi è più una carta contro mi sembra un'ottima carta di side per determinate strategie che effettivamente adesso fatica non può a trovare posto nel formato una due copie però io giocherei il fatto che una sorcery e o non è un instant ne ho già parlato è mega rilevante quindi prima ho parlato di sostanziale upgrade ad upgrade invece la verità è che il fatto che non sia una un istantaneo secondo me cambia tantissimo se non tutto se non la rende praticamente ingiocabile vedremo passiamo a fratture questa invece è un istantaneo distrugge artefatto incantesimo o placewalker bianco nero io credo che questa carta sicuramente troverà gioco di side in alcuni mazzi che comunque esistono sono super fringe però esistono perché alla fine fa disenchant però con un piccolo upgrade distrugge un placewalker intero cioè questa carta qui per esempio un grande mazzo che io adoravo tantissimo è wb quindi bianco nero token bianco nero token poi poi deve giocare disenchant perché ci sono effettivamente delle minacce che deve levare poi c'ha poche cose per distruggere artefatti se non disenchant con questa carta qui è molto molto più contento di giocare contro tron perché può distruggere carne cioè questa due mana instant distrugge un carne a set distrugge un ugin non è male non è male sicuramente la vedremo inside da qualche parte passiamo alla parte alla parte importante probabilmente io nel mio piccolo volevo mettere questa expressive iteration addirittura al primo posto perché credo che sia la carta per il power level fondamentalmente più forte e soprattutto perché trova già posto in un mazzo che è r scusate ur tra ur piccioni lo chiamano ur prodezza e cosa fa questa carta questa carta due fa una guardi tre carte della tua library ne prendi una in mano e le altre le metti bottom ma se vuoi puoi esiliare una delle due delle due che metti bottom e giocarla in questo turno quindi se la fate a due è semplicemente una specie di pre or di ponder in verità è telling time ok però esso se rimettete l'inta in instant però se avete del mana se avete del mana questa fa divination a due perché pesca due fondamentalmente anzi è meglio di dire perché guarda tre carte una mette sotto una potete giocare subito e una la mettete in mano è molto forte come power è molto molto forte come power level e vedrà gioco sicuramente secondo me in quel mazzo perché ha già una casa questa carta qui e perché ur protezza non dovrebbe giocare una carta simile sì non si fa uno eccetera non è manamorfosi sono d'accordo con voi però insomma quando hai tre mana fare manamorfosi poi guarda questo e poi fare una spella come volta che tiri fuori dal mazzo più una carta che prende in mano a me sembra un grandissimo affare un grandissimo affare passiamo vanishing verse che è quindi nella nostra top 3 sale sul podio isilia target monocolored permanent carta secondo me decide non giocherei mai questa carta di main perché ci sono troppi permanenti colorati cioè questa carta contro niv mizzet per esempio è praticamente morta distrugge solo utopia sprawl e tutti gli accelerini ma non distrugge le minacce vere quindi credo che non giocherei mai decide di main non lo so però decide è una carta stupenda veramente veramente forte che rischia di essere davvero molto molto importante tra l'altro in niv mizzet proprio il pazzo che ho citato prima perché questa carta leva monasteri swift fear così come stormwing entity che tipo sono due carte che nessuna non si sa esiste una carta che prende tutte e due si bolt però insomma sono due carte molto difficile bedlam reverer leva anche quella si sono il piromancer e lo esilia stoneforge mystic liliana del velo jace mai scalptor prende incante prende blood moon blood moon quindi tutte queste cose però insieme cioè è un catch all stupendo che come poteva essere a group decay ma con la possibilità appunto di prendere anche permanenti molto più costosi e ogni tanto molto più pericolosi titano primitivo una bellissima carta disegnata molto bene in dei colori che comunque chiedono quell'effetto vedremo come andrà all'interno del formato top 2 e ci salutiamo allora ragazzi se c'è una carta che probabilmente potrebbe cambiare un po il modern è questa clever luminanza ne ho parlato anche appunto nella risposta nella domanda di nella scusate nella puntata di risposta scombo clever luminanza era una 0 1 questo è un grosso downside sicuramente ma clever luminanza prende più 2 più 2 ogni instant sorcery e più 2 più 2 è tanto perché ragazzi cinque instant sorcery in modern si fanno con due carte praticamente manamorfosi lava dart avete già fatto tre spell vabbè con tre carte light up the stage e siete veramente avete volato 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 senza andare appunto al doppio lava dart e un manamorfosi devo dire che è una carta che un po mi preoccupa ma non so quanto sicuramente tanta gente ci giocherà e cercherà di renderla forte credo che quindi è una carta rischio ma non è una carta rotta bello il design vedremo come andrà a finire e sono veramente interessato a capire se questa carta possa in qualche modo entrare negli archetipi modern andiamo al primo posto ecco l'unica carta di tutte le 11 che vi ho fatto vedere tra l'altro c'è anche quella di paolo vittor da motorosa che non ho citato io non ci credo molto in quella carta in modern mi sembra non abbastanza forte per il formato sapete modern è un formato di carte forti io credo che l'unica carta che vedrà gioco sicuramente è trading discovery perché allora dredge chiaramente questa ha già una casa dredge non ha grossi problemi a generare mano a bianco ha sempre giocato city of brass può ibridarsi di più con un colore ha giocato sempre carte di site anche bianche quindi non è un grosso problema giocare mano a bianco ed avere otto enabler anziché quattro per quel mazzo perché questa cosa fa la stessa identica cosa di catartic reunion guadagnando due vite quindi non la fa proprio identica poi catartic reunion in verità per dredge c'è un upside perché è come costo addizionale scarta qui invece no qui è se la spella risolve scarti due e peschi tre quello è come costo addizionale scarti due che ottimo perché se te la counterano tu comunque hai scartato i draganti invece in questo caso no quindi c'è un piccolo svantaggio per dredge rimane che giocare con otto enabler di un mazzo così pericoloso nel formato anziché giocarne solo quattro io credo che i giocatori di dredge siano molto molto contenti di aggiungere questa thrilling discovery ai loro mazzi vedremo se ho ragione o meno e credo però veramente difficilmente sbagliarmi perché tante volte dredge muore perché gli scartano l'enabler la possibilità di ripescarlo subito perché nei 8 anziché 4 è davvero tanta tanta roba tra l'altro è una carta comunque decente che può entrare anche in un sacco di altri archetipi eppure comune vediamo se andrà a finire in pau per chi lo sa beh ragazzi grazie mille come al solito per aver guardato chiaramente ci prepariamo all'avvento di strict 7 con questi video anche domani ho intenzione di lasciare un altro video poi faremo degli unboxing della nuova espansione e vi ricordo che il canale è sostenuto da un sistema di abbonamenti da una parte piattaforma viola twitch youtube l'ho detto l'ho detto o da questa parte vi potete abbonare da una parte se avete amazon prime gratis da questa parte invece dovete pagare ho messo una cifra effettivamente irrisoria anzi occhio che tra un po l'aumento no è che vabbè lasciamo perdere grazie mille per aver guardato e ci vediamo alla prossima ciao domani